E' chiuso questa cosa qua? Questa barriera qua? Vabbè. Facciamo questa dimostrazione che quando giochi i giochi a un livello di troppo facile, tutto sommato un po' si sputtanano. Anche se mira un colpo o spostarsi un colpo o spostarsi perché ti attacchi in un attimo. Noi siamo altre. Altra cosa è? Ahahahahha. Il giocatore è finito. Tu e i tuei amici non mi più ammucano. Buongiorno. Ora nulla cosa mi ha scoperto a ottenere la mia riconoscenza. Belli! 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 Stabilimento rifiuti! Siamo venuti da lì? Beh, se magari questa scelta qua ci fa recuperare Belli in tempo, cioè nel senso che per poi fare tutto il resto non è male! E' un po' assurdante questo rumore! Prendiamocela! Non abbiamo più niente! Cos'è che c'è? Ecco un cavolo da fuori! Ah, forse è la tannica! Con una strana inquadratura! E' molto probabile perché era rosso! Ok! Non riesco a fare le rassegne, mi conoscete! Piuttosto non faccio il gioco! Per esempio Kingdom Hearts! Non ho mai giocato gli altri! Non ho mai giocati! Non ho fatto in tempo a fare una rassegna! Perché gli voleva dire 200 ore di gioco a farli tutti! E quindi non farò oltre! Non nell'immediato futuro, ma c'è assolutamente tanto di roba che quindi probabilmente lo recuperò, le recupererò tutti, ma non credo che li streamerò mai probabilmente! Non ha molto senso! Perché quando sarà pronto è troppo tardi! Pannello di alimentazione della diga! Stabilire un punto di alimentazione elettrica! La corrente può essere fornita a qualsiasi area fino a due punti di distanza! Cambiare punti? C'è una prova! C'è una prova! Ah! Dobbiamo arrivare a livello 3! Quindi... No! Come si fa? Ah! Che sfighe! Non si è arrivato lì! Eh ma! Per resettare devo uscire sempre tutte le volte dal coso! Hmm... .. Grazie a tutti Ok Sembra che la corrente si è stata ripristinata Stabilimento rifiuti Ancora quella zona da vedere L'idea di fare un salvataggio Così non devo rifare quella roba lì L'ho fatta un po' a caso E' andata bene Basta Il monito visualizza l'immagine di stabilimento per i rifiuti Adesso credo che Probabilmente forse non funzionava Adesso proprio lì non mi da l'achievement prima volta che mi sa che facciamo saltare la testa ma non avete pensato a queste cose non fa mai niente non dice niente qui c'è questa è la bottiglia vuota ok basta con il rosso niente luce verde non serve niente di nuovo dell'umbrella ma che ruptura questo può essere per il tuo corpo basta che non e ci arriva la stessa questa è chiusa mi sembra è sprovvista di maniglia ok servirà la maniglia è molto penso che a un livello di difficoltà di diverso cambiano anche i mostri stessi mappacca però la zona 10 si apre tutta S8 S9 questo non l'abbiamo neanche visto no è piccola questa zona qua davo di essere a buon punto altamente alcoli sono quasi tutte vuote mi selezioni quella è un bar questo non possiamo giocare con con flipper non hai visto un flipper come questo prima d'ora purtroppo è rotto e non può essere usato ma dai sembrava una schifezza però come flipper non mi piacciono poi flipper un gioco che gioco spesso è pinball fx 3 giocavo anche al 2 e prima ancora Zen Pinball che poi è diventato pinball fx o perlomeno sulla play si chiamava Zen Pinball invece che Pinball fx probabilmente non si poteva usare quel nome su pc non so non mi dispiacerebbe trovare un'erba verde o qualcosa in genere dalla parte di là niente la cassa non la spingi ma comunque è ah la sopra bisogna bisogna alzare ah mi sa che qua bisogna venire in due lo spazio è una batteria forse bisogna venire con Billy qua uno sta sulla cassa l'altro lo tira su pur apparecchio anche quella verde da arancio intanto prendiamola quindi se il game però non ci sono qua no una porta mi sembra qui e qui abbiamo ah no l'altra parte l'una cos'è un enigma quella di ferro immagino che si possa spostare dobbiamo salire qua no spinge ci sarà qualcosa da fare chiaccia tutte sto facendo basso e respirazione bocca a bocca ma rebeca dove sono sei sei sicura sei ok 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 hm 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 che avrebbe fatto questo devono essere usati come testi in la ricerca di Marcus tutti nell'angolino Sono due amici Non possiamo accarpestarlo No, quella è la zona dell'acqua Qui ci vuole ancora 10 magi E' chiusa la chiave dall'altro lato E' una scala qua, scende E comunque non è breve, è un gioco Un attimo, rientriamo, ma penso che sia L'unica porta gialla era questa qua Cioè più vanno avanti più i fan brevi Esatto Però la batteria qui non l'abbiamo in questo momento E là era una tessera Quindi comunque di sicuro bisogna andare là Però forse prima ci serve la... Vediamo come facciamo recuperarlo No, qui non l'avevo visto Questi comandi regolano l'alimentazione, lo scarico delle acque nelle tanniche E la rotazione delle grate Usare il dispositivo Alza le scatole di legno Sì, legno Facciamo scendere adesso E qui ovviamente non salta Ok, facciamo scendere Bisogna portare tutte le due scatole di legno di là Perché quella rimane lì Ruota C'è quella grata lì che sembra un ascensore Oppure è la grata No, no Ovviamente bisogna farlo con lui E lui il forzuto Ecco questa cosa qua Della collaborazione con le cose diverse Io avrei voluto fare un gioco che ci fosse C'era molto collaborazione Ma non solo tra Tra anche stazze diverse Abilità, salti più lontani Una cosa interessante Che ovviamente non viene Di solito non viene Portata avanti Lo torniamo su di lui Questa qua La togliamo completamente dei piedi Questa qua Questa qua l'intero dovrebbe bastare buttarle dentro come di qua non di là dai che no cos'è manca un millimetro dal muro l'intero si Sì. Poi la nicchia l'ha cambiato. Casi nessuno la... Ok. Una stupidata... Adesso ha i suoi luci. Non ci passa. Ruoterà di nuovo a destra? Ok. Dai, con questa incolleratura ti fa impazzire il Gambia. Ruota a destra. Ah, sinistra. Ok. E lui è pieno E lei me ne è ancora di più Allora qui ci sono i proiettili Amoli Ho anche darsi che però Qui non si lotto solo con la Manovella lì Ok Bene Ok 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 Qua fuori forse Quanto spara neanche te Bellezza Quanto spara Quanto spara Non si E lei non c'è No Staccato per sbaglio gruppo Ok, dovremmo essere qua vicino al save Non c'è niente mi sembra Questa è una scala Porta lì, ovviamente si sblocca la stanza Dobbiamo andare a vedere un attimo La porta investigatore 2 Alla fine c'era Avremmo dovuto farla finita con questa faccenda molto tempo fa All'inizio, chi avrebbe mai creduto che si sarebbe ricorsi all'armi in questo metodo? Al briefing nessuno ci ha parlato del pericolo rappresentato da queste creature Immagino che sia stata una sorpresa anche per i gran capi Quelle cose nascoste nella foresta hanno cominciato ad attaccare la gente Tutto ciò è stato pianificato Qualcuno deve avere deliberatamente propagato il virus Non c'è alcun dubbio Le guardie, i nostri comilitoni, devono trovarsi ancora là fuori Sia quel che sia, non è più il mio problema Che compassionevole Ora mia unica preoccupazione è decidere se utilizzare l'ultima pallotola Per uccidere io Me stesso sarebbe O un compagno Questa è l'unica decisione che mi resta da prendere Un'altra Ok, vediamo cosa chiediamo qua Una verde E' una rossa bella Mi rimbomba un po' nell'orecchia questo suono Su Mmm Niente, è una stanza effettivamente Chiusa Con le due erbe Ok Eh, c'è ancora tutto il primo da fare Mi domandano a livello più difficile Quelli di lì che eravamo così addosso Come facevamo? Devi praticamente ottenere sempre la health Piena Come se fosse poi una cosa facile Soprima morto da parecchio tempo Ma io non voglio lui Dov'è che decidi che posso prenderlo? Eh sì, io direi che è un po' più avanti Non sostiene per fotografie C'è scritto qualcosa nell'angolo Papà torna a casa presto In realtà non voglio quello Dov'è che posso intuire? Queste sono quelle al nap Qui c'è lo spray A peperoncino E direi si esce Andiamo a salvare Dov'è che cosa velocidade Grazie a tutti.